Ben ritrovati amici del Centro Medio Italiano. Nuvolosità in aumento e prime deboli piogge in Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 26 ottobre. Al mattino molte nuvole al nord e lungo il Tirreno con locali deboli piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria, Friuli e localmente Lazio e Campania. Maggiori schierite sull'Adriatico. Pioviggini intermittenti al pomeriggio su Liguria, Lombardia, Triveneto, regioni centrali tirreniche e zone interne della Campania. Nuvolosità irregolare altrove a tratti anche compatta ma con tempo più asciutto. In serata e inottata piogge diffuse al nord e sulla Toscana più asciutta altrove ma con molte nubi in transito. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in calo special nord lungo il Tirreno e sulla Sardegna. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.